Salve a tutti ragazzi, qui è GZFGamer e benvenuti in questo nuovo video qui su Call of Duty Advanced Warfare dopo un bordello di tempo Siamo nella modalità gioco delle armi e la partita mi sa che è già iniziata Comunque nonostante ciò io continuerò a giocarla, magari riesco ad ottenere nel mio piccolo un punteggio comunque soddisfacente Quindi vediamo un attimino cos'è che possiamo combinare Lui sta prendendo il sole, diciamo in una zona interna addirittura E vediamo, ecco beccato, poi ce n'è uno qua, lo sapevo che c'eri Vediamo eliminato bene così, poi c'è uno alle spalle, ecco lo sapevo Compari, sciocco, eliminato anche questo e poi, mamma mia ragazzi Ma questa clip devo tenerla per forza ancora Aspetta, aspetta, lo so che ci sei, lo so che ci sei, vieni qua Mamma mia, attenzione, c'è un recupero esagerato da parte mia, ma cos'è? Non è possibile Mi sto gasando troppo, vedo gente là, sei mio, sciocco, no vabbè Ho fatto 7-8 di fila, non lo so Comunque direi che sono andato anche abbastanza bene Quindi vediamo un attimino, spostati dalla nebbia, da questa roba malvagia Eliminato bene così Quindi continuiamo Uh, che cazzo ha fatto? Non ne ho idea ragazzi, non ho capito come ha fatto ad eliminarmi Comunque cerchiamo di muoverci perché L'obiettivo mi sa che è arrivare a 30 Solo che io al momento Diciamo che sono molto in svantaggio Perché ho iniziato la partita con circa 4 minuti di svantaggio Cioè, ho iniziato la partita dopo E quindi questo va ovviamente a mio grandissimo sfavore Nonostante ciò, come potete notare Sto comunque ottenendo nel mio piccolo qualche risultato, eh Ecco qua Uh, come ho fatto a becc... Ah, ecco, aveva, diciamo, due mitraioni giganteschi Vediamo se riesco a colpirlo adesso, eh Vedo gente qua Uh, nemmeno è morto, ora sì Poi c'è quello lì Ma porca miseria Ecco, mi hanno eliminato C'è stato ben poco da fare perché ho visto esplosioni randomiche Oh, c'è un tizio che sta volando Ma ciao Oh, aspetta Come ho fatto a non beccarlo? Ecco qua Poi, che arma è questa? Non ricordo come cavolo spara, ragazzi A volte proprio per questo motivo Non è possibile Partita conclusa Comunque mi sono divertito parecchio Ma ne facciamo ovviamente un'altra Andiamo Ed ecco che sta per iniziare la seconda partita La prima è andata anche abbastanza bene Comunque ho perso perché ero entrato davvero in ritardo Comunque vi ricordo ora, ragazzi, di lasciare un bel mi piace Non dimenticate Ve ne abbiamo iniziato la grande Mamma mia, no Porca miseria Poteva esserci qua Oh, 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 cos'è? Andatemi un attimo Non è possibile Comunque mi raccomando, ragazzi Ricordatevi di lasciare un bel mi piace Cerchiamo di superare gli 800, 900 1000, 1000 mi piace Dove sono i nemici? Eccolo No, non è possibile Hitmarker Ho rivelato la mia posizione T'ho visto, sciocco Ci stai provando ma è tutto inutile Ora via da qua Perché ho rivelato la mia posizione T'ho visto Devi solo sbucare Vieni qua Mamma mia Attenzione Pensare che non ci gioco da mesi Aspetta Ho visto un tizio che volava L'ho rivisto Vediamo un po' Eccolo qui Tu sei mio Eliminato Poi dovrebbe esserci Qui in giro Un altro Ora non so se È stato eliminato Oppure no Vediamo, eh Vedo dei movimenti laggiù E infatti Bene così Ora ho una Una, diciamo Pistolina della chicco Quindi In tal caso Devo cercare di giocarmela meglio Eccolo lì Ma ciao, bro Eliminato Bene così Siamo in 5 di pila Ragazzi Sta modalità Mi è sempre piaciuta parecchio E poi Ci so giocare anche meglio Rispetto al solito Delle altre partite E siccome Già ora faccio schifo Questo mi fa comprendere Quanto le altre partite Mi vadano davvero male Aspetta Eh, l'ho visto Oh, alle spalle Stavi per venire tu Sciocco che non sei altro Mannaggia Pensavo di Di star vincendo Invece no C'è qualcuno qua Che potrebbe fregarmi Dov'è? Doveva esserci Proprio qua uno Oh, mamma mia Attenzione Dov'è? Lo vedo Dovrebbe sbucare Da queste zone Non riesco a capire Oh, ma ciao Eliminato lui Bene così Poi Ci andiamo a nascondere E ti avevo visto Però c'era un altro Alle spalle Che mi ha sparato Questo ragazzi Vorrei vincerla Quindi Mettiamoci magari Un po' di impegno Col cazzo Però vabbè L'impegno ce lo mettiamo Tranquilli Poi mi arrivano Messaggi random Che si sentono nel video E spero non creino Interferenze Beccato No Oh, vabbè Ma non è possibile Mentre sto sparando Un tizio Mi becca Quello alle spalle Allora Ecco C'è questo qua Lo becchiamo No Mi ha rubato la kill Ma sei pessimo Nel vero senso della parola Ucciso Poi ce n'è uno qua Porca miseria Non ricordo come cavolo Spara quest'arma Non è possibile Che non muoiono Forse perché sto caricando Un video È probabile Comunque Vediamo Oh aspetta c'è gente Oh devi morire amico mio Mi dispiace Guarda nulla Cioè ragazzi Ma avete notato Che io gli sparo Effettivamente Ora La mia mira farà Anche abbastanza schifo Però non è possibile Badman 2 Ma c'è sempre stato Sto cartello O è la prima volta Che lo vedo io Sbuca Perché non sbuchi Cos'è che lui Che non mi ha visto Ma Tra l'altro C'è stato anche un po' di lag Quindi questo vi fa comprendere Che effettivamente Qualcosa non va Sulla linea Comunque Oh ma ciao bro Beccalo Beh Non è morto Ma non è possibile Quanto siamo Io sono 10 Il tizio che sta vincendo È 17 Quindi Purtroppo Non credo ci sarà la vittoria Ma non è detto Quindi ragazzi Che fine ha fatto Eh devi venire qua Amico E arriva quello dalle spalle Che ti incula In maniera piuttosto Selvaggia Però Diciamo Facciamo finta che non ho detto Parolacce e cose volgarie Ciao È morto Finalmente Si procede Quindi Eccolo qua Uno Mannaggia Uh cos'è Raggi laser Vediamo un attimino Eccolo 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 È entrato Mi sa Si è riuscito a divincolarsi Ma ciao Finalmente le cose vanno bene Beccalo Si vai così Bene ragazzi Finalmente forse si riprende Cos'è questo Che cazzo di arma è questa Ma non è possibile No che non è possibile Comunque nulla è detto E' ancora gente qua E' eliminato Cosa ho in mano Aspetta Eh vabbè Ma lui vola Vai così Vai così Siamo a 15 E' quindi Uh E l'avevo visto Con la coda dell'occhio Però purtroppo L'occhio non è andato Alla stessa velocità Della mia mano Che doveva appunto Essere pronta A sconfiggere il nemico Allora Quello è morto Quindi vuol dire infatti Che c'è uno qua Finalmente si passa Al nulla Si passa Perché sono morto Quindi vediamo un attimino Buonasera Non mi sembra di vedere nessuno Ma ciao Eh sei mio Non sei mio Sto scherzando Mannaggia gente che mi spara Non è possibile Ce n'erano due Almeno per probabilità Almeno uno doveva eliminarlo Comunque Andiamo da quest'altro lato Va C'è gente là Si Quello ha le mie stesse armi Eh mi sa di si E' ma inutile Te l'avevo già Diciamo messo in difficoltà da prima Fanculo sono morto Vediamo un attimo qua Che succede eh Buonasera Eh t'ho visto che ci sei T'ho visto Sciocco anche hit marker Ma non è possibile Che mi beccano sempre alle spalle C'è in un conflitto a fuoco Uno contro uno Probabilmente avrei la meglio Eccolo là Sei mio Eliminato Bene così No il fucile da cecchino Ragazzi il fucile da cecchino No il fucile da cecchino No Io sono sicuro che perderò solo Perché non riuscirò ad andare avanti Con questo fucile da cecchino Forse si L'ho preso Attenzione Pistolina Uh Mamma mia Mi sto casando Mi sto casando Mi sto casando Mamma mia ragazzi Il fucile Scatenatissimo Cosa sta succedendo Ricarica Ricarica vai che ce la facciamo Vai che ce la facciamo Non ce la facciamo Aspetta vai che ci sono Quello deve morire Quello deve morire Sei mio Eh non sei mio Sto scherzando Colpo alla testa ragazzi Vai che ce la possiamo fare eh Vedo gente là Vedo un po' di bordello Facciamo bordello Spacchiamo tutto Ecco qua Eliminato bene così E poi Bam No cos'è Cosa ha preso ragazzi Non è possibile che mi Mi fanno sti giochetti Allora qua c'è qualcuno sicuro Vediamo Ah ma questo Eh porca miseria Pensavo fosse direttamente Il fottutissimo Aspetta ma dov'è Uh sei mio No non sei mio Aspetta eh ragazzi Qua c'è c'è bordello Eh ok Siamo quindi arrivati In terza posizione Mi sono divertito un botto Magari se volete Potrei fare più spesso Partitozze semplici Come questa Dove comunque ci divertiamo Io vi ricordo Di lasciare un bel mi piace Cerchiamo di superare Gli 800-900 1000 mi piace Per questo videozzo E vi ricordo anche Di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Quindi alla prossima Ciao